Continuiamo a parlare di trattative che riguardano gli sport motoristi, dopo aver parlato di Sebastian Fettel e del possibile non rinnovo del tedesco con la Ferrari trattiamo l'argomento Valentino Rossi e del possibile suo approdo in Yamaha SRT ovviamente sono tutte trattative in corso d'opera, alcune notizie possono non essere certe sono comunque contenuti che le testate giornalistiche stanno riportando e di conseguenza anche un canale seppur piccolo e amatoriale come il mio in questo video andremo a leggere l'articolo di gp1.com e dopo vi darò anche le mie opinioni da tifoso della Ducati di quello che ne penso di questa trattativa quindi qualsiasi tifoso di Valentino che dovesse mai guardare questo video per favore non uccidetemi se sto magari dicendo che non tifo Valentino Rossi ma i motivi per cui tifo Ducati li ho spiegati in un altro mio video che vi lascio ovviamente in alto nelle schede parliamo però dei fatti o comunque delle trattative che hanno riportato le varie fonti giornalistiche e noi ci basiamo su gp1.com la premessa è che la Yamaha ufficiale ha declassato, ha mandato alla porta gentilmente Valentino Rossi già all'inizio del 2020 a febbraio la Yamaha ha detto a Valentino Rossi di di fatto essere fuori per il 2021 dal team ufficiale dal momento che appunto lo stesso team ufficiale schiererà Maverick Vignales e Fabio Quartarò dunque linea giovane per la Yamaha squadra A per la squadra B, se così possiamo chiamarla, comunque per il team clienti è già stato confermato Franco Morbidelli e questa è una cosa sicuramente positiva ma l'ipotesi che si fa è per certi versi e anche l'opzione più naturale ci sarebbe un posto libero per Valentino Rossi considerato che a prendere il posto del 46 Yamaha ufficiale sarà Fabio Quartarò che ha fatto la stagione della vita lo scorso anno in moto mondiale ed è stato clamoroso avere il crack del pilota francese perché in moto 2 Quartarò aveva vinto veramente poco una gara per la precisione due podi e in moto 3 doveva essere il fenomeno che doveva valare la concorrenza è invece arrivato comunque dopo comunque Yamaha ha scelto la linea giovane, vi ricevo e Rossi l'hanno gentilmente accompagnato alla porta comunque non c'è un'occasione più propizia per un team satellite di prendere o comunque provare a prendere Valentino Rossi Valentino Rossi che ha già dichiarato comunque di voler correre nel 2021 quindi il ritiro che molti si auspicavano o alcuni quantomeno è rimandato almeno al 2021 ma non è detto perché come riporta gp1.com il contratto che dovrebbe essere stato offerto a Valentino Rossi sarebbe un annuale con opzioni addirittura per un anno dopo ancora quindi nel 2022 si andrebbe addirittura a correre qualora appunto il 46 dovesse decidere di potercibare addirittura il ritiro io vi ricordo comunque che Rossi ha più di 40 anni comunque la cosa importante è una condizione che viene riportata prima della forma della proposta del team Yamaha SRT ovvero che Valentino Rossi vorrebbe portare tutto il suo team di meccanici, staff e quant'altro anche Yamaha SRT che di fatto è la stessa cosa che fece quando passò da Honda a Yamaha e da Yamaha a Ducati e di fatto per il corso della sua carriera l'altro paletto è avere un giovane della Rider Academy gestita dallo stesso Valentino Rossi in squadra e Franco Morbidelli è ovviamente l'uomo di punta su cui puntare che ha fatto il percorso direttamente già in Yamaha l'altro membro della Academy è Francesco Bagnaia che però ha un percorso un po' più indirizzato verso la Ducati seppur l'anno scorso Bagnaia fece abbastanza fatica quello però che più conta è che Valentino Rossi ha ancora voglia di correre a 40 e più primavere suonate e questa cosa da un lato è sicuramente un qualcosa di positivo dall'altro secondo me un pochino no andiamo dunque a vedere quelle che sono le mie opinioni riguardo a questa trattativa che comunque ci può stare dal punto di vista dell'offerta perché non penso che nessuna scuderia offrirebbe più di un anno a un qualsiasi sportivo ultra quarantenne sarebbe comunque una mossa abbastanza particolare mettiamo così annuale con opzione lascia sicuramente la volontà a Valentino Rossi che comunque da sempre ha voce in capitolo su queste cose e porta sicuramente tanti aspetti anche positivi per quanto riguarda il team clienti mentre siamo spostati sulla foto di Valentino Rossi quali sono gli aspetti positivi di un eventuale arrivo di Rossi in Yamaha SRT sicuramente la grande botta di marketing che si darebbe a un team privato basti pensare a tutte le orde di televisioni, giornali, comunque media italiani che si fionderebbero sul team Yamaha SRT che in condizioni normali secondo me sarebbe cagato poco o niente sì l'hanno considerato per Quartarò perché Quartarò ha fatto seconda della vita ma di base se no parleremmo di un team che pensa a crescere i piloti giovani da mandare al team ufficiale vedi appunto Quartarò e vedi spero in un futuro Franco Morbidelli Valentino Rossi in un team ufficiale per il team privato sarebbe un qualcosa di clamoroso perché appunto il team privato avrebbe una marea di soldi una marea di sponsor in più e tutto l'entourage di Valentino Rossi è tutto quello che Valentino Rossi comporta Valentino Rossi ha reso molto popolare in Italia questo sport che è un pregio ma è anche in alcuni casi un difetto perché in alcuni contesti ho visto letteralmente delle tifuserie calcistiche nel senso più brutto del termine schierati apertamente nei confronti del proprio idolo quando in realtà secondo me il modo di vedere il motociclismo al netto delle simpatie e dei tifi deve essere un qualcosa di un po' più obiettivo e più nel riconoscere i meriti di uno sportivo che sia diverso dal vostro idolo è come se io parlassi semplicemente bene della Ducati che tifo dal 2006, Tempi di Bayliss e Capirossi ovviamente e parlassi sempre male di Marquez, di Rossi, di Lorenzo e compagnia bella e guarderei soltanto nel mio orticello a me piace vedere il motociclismo in un'altra maniera e quindi questa botta di marketing di come dire spinta verso Valentino Rossi è positiva ma al tempo stesso la vedo come un difetto ciò non vuol dire che io sia un anti-rossignano non ce li diamo nemmeno vicini anzi io mi sono incazzato come una bestia quando Rossi perse il mondiale nel 2015 quando di fatto gli rubarono a mano armata Lorenzo e Marquez perché a Sepang fecero quello che fecero ma va bene, questo è un altro discorso lasciato agli storici del motociclismo noi siamo qui per parlare del futuro l'altra cosa secondo me negativa di questa cosa è che al di là della grande passione della voglia di Rossi di continuare a correre fino allo sfinimento onestamente non vedo concretamente quali potrebbero essere gli sviluppi di un approdo di Rossi in SRT perché di certo un team satellite difficilmente, anzi, avrà una moto per vincere e quindi Rossi secondo me non raggiungerà mai quel famoso decimo titolo complessivo in tutte le classi se appunto, come è già successo la Yamaha lo ha declassato sicuramente se Rossi dovesse andare nel team Yamaha SRT potrebbe magari fare qualche podio nella migliore delle ipotesi secondo me o comunque lottare nelle posizioni a punti magari nei primi dieci che sono comunque le prestazioni che nella seconda parte della stagione 2019 il pilota marchigiano aveva registrato risultando peraltro anche la peggiore delle Yamaha anche a discapito di quel futuro compagno di squadra che dovrebbe essere Franco Morbidelli altro pilota che sta crescendo e spero che un domani arrivi nel team ufficiale onestamente per Rossi secondo me poteva essere il momento di ritirarsi al termine di questa stagione 2020 e magari pensare appunto a quell'Academy che sta portando piloti molto talentuosi italiani nel giro delle moto che contano basti pensare a Morbidelli lo stesso Bagnaia sono entrambi campioni del mondo Moto2 arriverà poi un domani anche il fratellastro di Valentino Rossi ovvero Luca Marini che comunque è un altro pilota già sotto i riflettori per ovvi motivi secondo me appunto va bene la passione però fare come e qui prendo un esempio della Formula 1 un Kimi Raikkonen qualsiasi che va in Alfa Romeo corre ancora per due anni e si piglia il distacco che si piglia e se va bene va a punti onestamente secondo me sarebbe non una fine di carriera così adatta a Valentino Rossi che secondo me avrebbe fatto bene a chiudere questa stagione 2020 sempre se qualora partirà ovviamente e comunque dare un segno di ritiro alla sua comunque mirabolante carriera ripetiamo parliamo di un nove volte campione del mondo che è considerato uno degli sportivi italiani più influenti e grandi di sempre e non sono di certo io che sono signor nessuno a criticare Valentino Rossi per questo motivo a me onestamente non piace che ancora una volta di fatto ci sia questa calca intorno a Valentino Rossi per il suo futuro un futuro che onestamente appare tutt'altro che erosio da tutta la vista dei risultati perché comunque è praticamente impossibile che Valentino Rossi secondo me per quelli che sono gli elementi di oggi tornerà a vincere il decimo titolo complessivo in tutte le classi anche perché c'è un Marquez da battere se continua così Marquez vincerà i prossimi ventorrici mondiali consecutivi rendendo la MotoGP molto più noiosa di quanto non è stato l'ultimo mondiale passato comunque sarà secondo me da un certo punto di vista interessante se Rossi dovesse continuare a correre per i motivi che ho detto prima vedere comunque Rossi non team satelite darebbe appunto una grande botta di marketing e di notorietà a un team che di base secondo me sarebbe meno considerato detto questo rimane un'opinione di un appassionato di sport che segue il moto mondiale dagli anni da metà anni 2000 quindi vi ricordo i tempi di Capirossi di Bayliss e che onestamente come tutti dà le opinioni sul tubo visto che parliamo di broadcast yourself fatemi comunque sapere cosa ne pensate in un commento qui sotto di questa trattativa di Rossi se anche voi siete d'accordo con me e se non lo siete in ogni caso fare una sorta di dibattito su quale potrebbe essere secondo voi la scelta migliore per il pilota marchigiano comunque una leggenda di questo sport fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate vi lascio ovviamente in descrizione tutti i miei social il primo canale musicale e la mia pagina facebook se volete seguirmi anche lì iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto vi saluto da parte di me di Torgal e speriamo presto di parlare di sport giocato e corso in questo canale ci vediamo dunque presto a un prossimo video